Chi sono coloro che godono del valore della semplicità? I bambini, gli ingenui, i poeti. I poeti sono quelli che proprio nel loro smarrimento delle cognizioni scientifiche, filosofica, hanno questo orizzonte ampissimo davanti la gioia alla sua sofferenza. L'innamoramento alla sua sofferenza. I sentimenti umani, l'amicizia hanno la loro sofferenza, però la felicità era più della sofferenza. Io credo che potrei inginocchiarmi anche di fronte a un potente prepotente, se questo mio inginocchiarmi davanti a lui cambiasse l'opinione del prepotente. Io sono grato a quel primo sguardo che mio padre e mia madre hanno scambiato capendo in quell'istante che si innamoravano l'uno dell'altro. Quando Fellini presentò la dolce vita e venne a Milano, vide il tempo si è fermato. quello per cui mi disse, d'ora in poi siamo come fratelli, ma che fai Ermannino che fai? Lui faceva tutto il diminutivo, no? Ermannino ma cosa fai? Infatti io chiamavo Federicone, io sono già quasi vicino alla foce. Non so quanto grande o piccolo sia io come fiume, ma certamente so che non finirò mai di essere acqua. Acqua e luce. Io ho fiducia, ho fiducia. Facendo Terra Madre per esempio c'è nel film questo ragazzo del Massachusetts, 15 anni, e lui finisce il suo intervento lì a Terra Madre a Torino e dice noi saremo la generazione che riconcilierà l'uomo con la terra. Mi pare un buon motivo di speranza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.